Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Ieri si è tenuta una riunione informale in presenza del sindaco Di Stefano e del parlamentare Ars Di Paola e una delegazione del PD. Al centro dell'analisi interna le possibili combinazioni per le provinciali e la prospettiva di una maggioranza. Il modello Gela in questo frangente con qualche grattacapo dovuto alle incomprensioni tra i dem l'ha voluto facendolo maturare nel percorso iniziale della gora politica. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, sta guardando alla città con molta attenzione ma è inevitabile che la focus venga attratto pure dalle eventuali elezioni provinciali. Ad oggi prevale una notevole incertezza, si dovrebbero ottenere il prossimo 15 dicembre con l'orbita del secondo livello e quindi attraverso il voto di sindaci e consiglieri comunali. Il centro-destra Lars però pare intenzionato a riproporre il sistema dell'elezione diretta. Una cosa è certa, indipendentemente dalla caso provinciali, i progressisti vogliono mantenere lo schema che li ha portati a vincere le amministrative con il sindaco Di Stefano. Un'analisi dei temi, politici e non, l'hanno fatta ieri tra gli altri, proprio Di Paola e Di Stefano insieme ad esponenti idem. Ancora una volta, a maggior ragione con la nomina dei due assessori del PD, Fava e Di Cristina, la prospettiva è di una maggioranza consigliare compatta che dovrà affrontare pure il delicato passaggio finanziario con il bilancio stabilmente riequilibrato, ancora tutto da definire. L'asse tra il Movimento 5 Stelle, i civici e il PD rimane la baricentro, nonostante qualche divergenza tra le fila del Partito Democratico. Le osservazioni critiche del capogruppo Orlando hanno preso spazio in questi giorni. Alla riunione pomeridiana di ieri in municipio, tra gli altri, c'era il consigliere del PD Antonio Cuvato e il presidente provinciale Massimo Arena. I progressisti cercano gli equilibri e vogliono testarli, eventualmente pure alle provinciali di secondo livello, dove peseranno di gran lunga i voti dei consiglieri dei due comuni principali, Caltanissetta e Gela. Nessuno si sente di escludere l'opzione del sindaco di Stefano, presidente della provincia. Potrebbe essere anche in questa circostanza l'equilibratore civico nelle strategie del centrosinistra che incita ormai un vero e proprio laboratorio politico, testato soprattutto sulle emergenze che si susseguono. Ieri sera invece di Paola ha incontrato i consiglieri e gli amministratori pentastellati a Caltanissetta, sempre seguendo la traccia delle provinciali. La cronaca. Un giovane in codice rosso e un altro ferito sono stati travolti mentre erano in sella uno scooter ieri sera. Di investirli un uomo che era alla guida della sua vettura su un tratto della Gela Catania, alle porte della città, nei pressi di un'attività commerciale. I due giovani e l'automobilista sono stati trasferiti in ospedale e a preoccupare maggiormente sono le condizioni del ferito in codice rosso. La Commissione straordinaria di liquidazione ha completato la verifica di tutte le richieste dei creditori dell'ente comunale attualmente in dissesto e il debito totale ammonta 54 milioni e la stessa Commissione ha proposto la procedura semplificata. Come abbiamo già riferito si è tenuto un lungo incontro con al tavolo il Sindaco di Stefano, i componenti, la Commissione straordinaria di liquidazione, i revisori dell'ente comunale e i riferimenti del settore bilancio. La Commissione ha concluso i rilievi sulle richieste avanzate dai creditori del municipio nel contesto della procedura di dissesto. Il totale del debito ammonta 54 milioni con un numero di richieste fermo a 561. Una disamina che adesso ha portato la stessa Commissione a proporre la procedura semplificata per la copertura dei debiti che saranno garantiti in una soglia di pagamento attestata tra il 40 e il 60%. I residui passivi legati all'ultimo rendiconto approvato invece si attestano intorno ai 40 milioni di euro. La Giunta avrà 30 giorni per aderire, come ha spiegato già il primo cittadino di Stefano. Sarà questa, salvo sorprese, la direttrice che verrà seguita per abbattere in larga parte l'entità complessiva del debito cercando di superare il dissesto prima possibile. Questo è l'auspicio amministrativo di Di Stefano. Chiaramente servono le risorse per coprire la massa debitoria. Per la Commissione straordinaria presieduta da Carmelo Fontana, composta inoltre da Giovanni Impastato e Giuseppe Gervasi, le strade per attingere i fondi sono ben delineate, l'alienazione del patrimonio disponibile, la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto, la contrazione di un mutuo con onere a carico del comune, il riaccertamento in via straordinaria, residui attivi ancora da riscuotere, i rate dei mutui disponibili, le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali e infine gli eventuali proventi della cessione di attività produttive. Il sindaco Di Stefano e gli assessori dovranno formalizzare la rotta aderendo alla proposta della Commissione indicata come quella che assicura un risparmio di spesa, proprio perché permette di transare i crediti vantati dai creditori del municipio. Inoltre gli stessi otterrebbero liquidità immediata, seppur di entità inferiore rispetto al titolo originario. Solo così, stando all'atto della Commissione, si potrà traghettare verso un risanamento finanziario a Palazzo di Città e la dissesto, i tanti vincoli che impone sono un peso enorme per la programmazione amministrativa. Ci sono voluti ben 27 anni per far sì che il corso di accompagnamento al parto, finora tenuto in consultoria e negozi specializzati in prodotti per la prima infanzia, tornasse in ospedale. All'interno dell'equip composto dal ginecologo, ostetrica, pediatra e psicologo, per la prima volta anche in Sicilia sarà presente il musicoterapista. Torna dopo ben 27 anni il corso di accompagnamento al parto in ospedale, un grande traguardo per il reparto di ginecologia del Vittorio Emanuele. È un successo della personale e della ginecologia della provincia. Questi corsi già si fanno nei due consultori di Gela, dove sono il dottore Turco e la dottoressa Burgio, che li tengono in maniera eccellente. Si fanno anche in alcune strutture della provincia, per esempio si fanno anche a Niscemi, ma non c'è un'organizzazione che converge poi verso la struttura pubblica di riferimento che è l'ospedale di Gela. L'obiettivo principale del corso è quello di aumentare il numero dei parti spontanei e abbattere così il rischio ostetrico. Noi stiamo facendo questo servizio per abbattere il rischio ostetrico, perché le donne se sono preparate e istruite, sicuramente partoriscono in maniera più dolce, più serena, sono più tranquille e abbiamo più tasso sicuramente di parti spontanei. Questo è il nostro obiettivo, questo è l'obiettivo che si pone anche l'Italia. Noi dobbiamo avere un tasso di parti spontanei sicuramente migliore di quello che abbiamo. Poter partecipare al corso è molto semplice, basta recarsi al reparto sito al terzo piano del nosocomio di Capo Soprano e fare richiesta. Le donne devono prenotarsi in quella divisione del reparto, poi forniremo pubblicamente il numero, il contatto della divisione. Ci sono delle ostetriche incaricate di questo servizio, sono l'ostetrica San Filippo e l'ostetrica Buonaccorso. Come referente del progetto sono io, il dottore Ferraro e poi ci sono il dottore Caci che è il capodipartimento, il primario della pediatria che è il nostro capodipartimento, che è molto contento di questa innovazione. Un'altra grande novità per l'equipe che sosterrà il corso preparto in ospedale sarà l'accesso ai punti nascita di smessi di Niscemi e Mazzarino, dove le gestanti potranno seguire il corso senza dover lasciare la propria città. Ci integriamo anche con le strutture di Niscemi e di Mazzarino perché permetteremo alle donne di fare i corsi lì in struttura pubblica con l'ostetrica e il medico all'equipe perché è giusto che le donne che abitano nelle sedi di ex punto nascita di smessi abbiano questo e anche altri servizi perché è giusto garantire tutto e li fidelizziamo verso la nostra struttura perché è giusto che partoriscono qua a Gela e le donne di Niscemi e Mazzarino invece di partorire a Caltagirone o a Vittoria quelle di Niscemi e a Enna quelle di Mazzarino, però dobbiamo fidelizzarle e far capire che qua possiamo dare un servizio che sia consono alle linee guida migliori che ci possono essere, devo sentirsi sicure ma anche servite accompagnate verso un percorso molto bello che è quello della gravidanza. Il corso avrà una durata di otto incontri con scadenza settimanale e la durata di circa due ore. La metà del tempo previsto sarà riservata ad una speciale ed esclusiva preparazione con la musicoterapia. Il professor Salvatore Grimaldi, esperto in materia, sarà presente in tutti gli incontri e preparerà le donne gravide con una speciale scaletta di brani esclusivi per rendere dolce il momento del travaglio e del parto. Ci donerà del suo servizio, unico in Sicilia, fra i pochi in Italia, che darà sicuramente assistenza alle gravide per rendere dolce il travaglio e anche per dare energia durante la fase espulsiva, perché è un progetto eccellente che gli studi statistici dicono, che dà un input positivo anche per il neonato. I neonati che nascono da mamme che hanno partorito con musicoterapia hanno attitudini all'attività scientifica e all'attività relazionale migliore degli altri bimbi. Poco meno di 107 mila euro all'anno anche per l'Unione dei Comuni con Gela, Niscemi e Butera è stato rilasciato il decreto della Regione che stanzia fondi anche se l'ipotesi iniziale era per copertura ai maggiori. L'Unione dei Comuni che mette insieme Gela, Niscemi e Butera attraverso la nuova programmazione dei finanziamenti 2021-2027 potrebbe coprire progetti per circa 80 milioni di euro. La partenza non è stata delle migliori a causa di una forte incertezza anzitutto regionale. Qualcosa inizia a muoversi anche negli uffici palermitani. Il Dipartimento delle Autonomie Locali ha appena rilasciato il decreto che stanzia fondi per tutte le unioni dei comuni costituite sull'isola. Annualmente fino al 2026 anche per quella locale è previsto una somma di circa 107 mila euro. Non la soluzione a tutti gli inconvenienti organizzativi ma comunque uno spiraglio in più per avere risorse da destinare ad una struttura in questa prima fase tendenzialmente quasi spoglia. Serve personale che si possa occupare dei progetti e delle complesse procedure. I sindaci di Stefano Conti e Zuccalà si confrontano da tempo sulla questione. Attualmente è il primo cittadino gelese che ricopre il ruolo di presidente dell'Aggiunta dell'Unione che conta su un consiglio composto da tre gruppi in rappresentanza di ciascun comune compreso quello gelese con l'Ademma Labbiso, il civico Giorannello e il Cuffariano Irti. Il Dipartimento regionale ha rilasciato una precisa tabella per delineare gli stanziamenti uguali per tutte le unioni siciliane. Sono somme che almeno in questo frangente potrebbero servire a coprire i costi per la governance e per la burocrazia dell'Unione che si deve dotare di organi tecnici e di controllo. Sono in corso invece le procedure coordinate a livello nazionale per selezionare esperti esterni che andranno ad occuparsi della lunga trafila dei progetti. Con una situazione così convulsa e con il lungo stop forzato imposto dall'eccessivo mobilismo regionale, pare difficile che il ciclo possa concludersi entro la scadenza originaria del 2026. Intanto sarà necessario dare uno scossone netto e il sindaco di Stefano ha da poco attribuito la delega per l'Unione dei Comuni al neoassessore Peppe di Cristina. La regione batte un colpo e per ottenere gli stanziamenti bisognerà presentare un piano di utilizzo annuale delle risorse. Inizialmente si ipotizzava comunque che lo stanziamento annuale potesse arrivare fino a 300.000 euro. Invece le somme sono decisamente inferiori. Il 24 novembre si apre ufficialmente la stagione teatrale al Teatro Eschilo di Gela in cartellone per la prima volta a Gela, l'opera lirica che celebra i cento anni della morte di Puccini e i figli di Gianni Morandi che racconteranno la storia del padre. Non mancheranno inoltre le commedie comiche e i grandi classici come la locandiera. È stato presentato il nuovo cartellone teatrale del Teatro Comunale Eschilo di Gela, una rassegna teatrale poliedrica che potrà condentare i gusti di tutti gli spettatori. C'è di tutti e di più e perché deve essere giustamente l'emblema del Teatro Eschilo. Il Teatro Eschilo è il primo teatro della città, il Teatro del Comune di Gela e il teatro che insomma fa le opere di prosa, le opere un po' più importanti. Addirittura quest'anno abbiamo finalmente creato un sogno che è quello di portare la lirica dentro il teatro. C'è stato richiesto per anni, finalmente quest'anno avremo un resital di opera lirica perché sono i cent'anni di Puccini, dalla morte di Puccini, avremo un resital spettacolare. Viene Gianni Morandi a Gela? No, non verrà Gianni Morandi a Gela, ma i suoi figli. Il figlio è il maschietto e la femminuccia che racconteranno Gianni Morandi e si vedrà anche Gianni Morandi che parlerà col pubblico di Gela, per cui è una cosa molto carina con la famiglia Morandi. Come amministrazione siamo convinti che le attività culturali, teatrali e turistiche debbano essere al centro di una nuova agenda per Gela e al netto delle polemiche il lavoro deve essere sempre quello di costruire il meglio possibile le prospettive di questa città perché Gela è una città di cultura, Gela è una città di storia, Gela è una città che ha un grande patrimonio culturale e noi siamo convinti che le attività teatrali possono essere per questa città una fisiologica risposta a quella che è la sua storia. Il teatro è certamente il centro nevralgico di una città. Una città che non ha teatro è una città povera culturalmente, quindi sicuramente la presenza del teatro in città ha favorito la crescita culturale del nostro territorio e noi come amministrazione non possiamo che incoraggiare l'uso, la fruizione del teatro da parte della collettività tutta a cominciare dalle giovani generazioni e quindi per riconoscere la valenza educativa fondamentale che il teatro riveste. Per la prima volta alla conferenza di presentazione del calendario è stato invitato il presidente del Consiglio Comunale. Oggi ho avuto questo doppio privilegio non soltanto di partecipare alla presentazione appunto del cartellone ma ho scoperto durante la presentazione di essere il primo presidente ad aver avuto questo onore, quindi un doppio privilegio essere oggi presente qui. Come dico sempre cultura deve essere un termine tanto ampio da far comprendere proprio il risveglio sociale di una città e il teatro è sicuramente una di queste fasi. Un teatro che deve essere dei gelesi, oggi è stato presentato da Franco Longo un cartellone che abbraccia diversi gusti, un cartellone trasversale, quindi penso che possa ricomprendere appunto diversi interessi dei nostri concittadini, spero anche da territori limitrofi. Quest'anno al Teatro Eschilo ci saranno due grandi eventi. All'interno del Teatro Comunale sarà ospitato un corso di formazione per tecnici del suono e un corso sulle tecniche teatrali e di doppiaggio tenuto da Monica Ward. Un corso di teatro emozionale sarà poi dedicato esclusivamente alle ospiti della famiglia Egle. Noi abbiamo sempre fatto volontariato perché abbiamo creduto sempre che la cultura sia una forma di crescita culturale per tutti, dagli adulti ai bambini eccetera. Quest'anno abbiamo voluto dedicarci a esattamente chi ha dei problemi che possono essere personali o familiari eccetera. Abbiamo offerto gratuitamente un corso di teatro emozionale, e questo lo farò io personalmente a queste ragazze, alla casa famiglia Egle. È un corso gratuito per cui abbiamo stretto questo accordo. Una volta a settimana ci sarà su questo palco, chiuso al pubblico chiaramente, le ragazze della casa famiglia Egle che sperimenteranno una forma di incontro, di terapia, di associazionismo attraverso la forma teatrale. Le variazioni sono state approvate dall'ARS già negli scorsi mesi, man mano che gli uffici regionali stanno rilasciando i provvedimenti di impegno spesa, vale anche per gli stanziamenti destinati alla città. Tra questi i fondi per la manutenzione degli impianti sportivi, per la ristrutturazione del Palacossiga, ancora una volta vandalizzato. Nel primo caso l'iniziativa è stata del grillino di Paola con copertura per 196 mila euro. Rispetto al Palacossiga invece i fondi per 88 mila euro arrivano da un'iniziativa del deputato Michele Mancuso. Le somme in municipio dovranno essere impegnate entro fine anno evitando il taglio. Per il Palacossiga la quota dei lavori da realizzare è assai elevata a causa dei danni ingenti. Gli 88 mila euro potranno essere utili a un ente di dissesto che non può permettersi troppi voli pindarici. Da una settimana proprio il settore sport con le annesse strutture cittadine è stato affidato al nuovo assessore Peppe Di Cristina. 24 ore ci separano dalla quarta trasferta nel campionato di eccellenza del gelacalcio. L'avversaria di domani sarà l'Accademia Trapani al decimo posto in graduatoria con 7 punti ottenuti. Assente per la squalifica oltre a mister Gaspare Cacciola anche il centrocampista Alfonso Sessa auto per somma di ammunizioni. In casa invece la Vigor Gela al cospetto della Cicatena. Ripartire dal poker rifilato alla Parmobald deve necessariamente essere questo l'obiettivo del gelacalcio in completa armonia diranzi al proprio caloroso pubblico ma disordinato e disorientato in trasferta. Arriva domani la quarta gara fuori casa di questo torneo di eccellenza. Dopo le sconfitte a Misemeri e piena degli albanesi il pareggio a Casteldaccia che si è poi tramutato in una vittoria a tavolino. Tra 24 ore ai biancazzurri tocca affrontare un'altra insidiosa trasferta. Stavolta contro l'Accademia Trapani. Decime in classifica con 7 punti ottenuti. Date alla mano si parla di una squadra poco solida in difesa tanto quanto in attacco. 9 gol subiti in 6 gare e 7 cartellini timbrati. Le reti prese sono abbastanza in media 1,5 per gara. Il numero di gol ciclati sembra buono ma c'è da dire che 4 di essi dunque più di metà sono arrivati in occasione della gara d'esordio contro la super giovane Castelbuono. Nelle ultime 5 partite solo 3 reti messi a segno. Le aspettative per la sfida di domani sono piuttosto alte. Delle gare giocate in trasferta sino ora solo quella di Casteldaccia era sulla carta più abbordabile di questa. A dare il verdetto finale in ogni caso sarà il terreno di gioco che ha detto che a questa squadra in trasferta manca ancora qualcosina. Ospite lunedì a Varsport, Salvo Cochimano si è espresso in merito a questo tabù legato alle trasferte non ancora sfatato e ha suonato la carica affermando che quella di domenica sarà una gara totalmente diversa rispetto a quelle disputate fino a questo momento. Penso che lavorando insieme così, soprattutto con un allenatore che abbiamo avuto da diversi anni non abbiamo assolutamente scuse. Diciamo che il jolly ce li siamo giocati e da domenica dobbiamo dare una svolta a questo campionato. Sicuramente non possiamo ripetere quello che abbiamo fatto finora perché sennò non siamo realmente una squadra a vincere. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, stiamo cercando di lavorare, abbiamo poco tempo e già da domenica sarà tutt'altra partita. Ne sono convinto perché già due trasferte abbiamo sbagliato e non possiamo sbagliare la terza. Abbiamo perso dei punti importanti, siamo fortunati o anche bravi che ancora siamo a due punti potevano essere anche di più ma non abbiamo più margini di errori quindi sappiamo bene che dobbiamo andare a Trapani per vincere provare a vincere per continuare tanti risultati utili e conseguitivi perché se non è una squadra non può vincere un campionato se non fa un filotto di vittorie. In casa Vigor Gela è tempo di forze fresca e nell'ultima settimana il direttore sportivo Simone Pardo ha messo a segno tre colpi di mercato. La società biancazzurra ha ufficializzato prima il centrocampista Peng Jessim nato nel 2001 e proveniente dal vivaglio del Lille così come l'attaccante Edivaldo Donascimento. Anche egli è stato preso dal settore giovanile del club di Ligan e anche lui è nato nel 2001. Un anno più piccolo è invece Guayemudu ufficializzato ieri. Nato nel 2002 si tratta di un centrale difensivo senegalese che ha due esperienze italiane alle spalle. Ha indossato la maglia del Bisceglie in Serie D e quella dell'Irpinia nel torneo di promozione. I tre dovrebbero rientrare tra i convocati per la gara di domani che vedrà contro Vigor Gela e Agicatena decimo in classifica a quattro punti. Ad arbitrare l'incontro sarà a Matteo Piazza dalla sezione di Agrigento. Lischio d'inizio della gara fissato per le 14.30. Seconda trasferta stagionale per il Gela Basket ospite alla palestra cradina del Basket Siracusa quota due punti in campionato. Gara abbordabile ma da non prendere sotto gamba. L'obiettivo deve inevitabilmente essere quello di dare una continuità alla vittoria di domenica scorsa contro il Giar e riproporre le stesse percentuali che hanno portato i biancazzurri guidati da coach Bernardo a siglare la bellezza di 94 punti. È tutto il nostro telegiornale. Termina qui per gli altri approfondimenti. Vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Adesso vi lascio le previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.